Per la serie numero 1 dei 50 Rana ragazzi e femmine, in corsia 1 Veronesi Ilaria, Adria Nuoto, corsia 2 Franceschini Giulia Vittoria Lata Nuoto, corsia 3 Pieraino Marta Vittoria Lata Nuoto, corsia 4 Mascotto Beatrice Aquapolis, corsia 5 Riane Emma Rappresentativa Rosà, corsia 6 Zamberland Asia Leo Sport, corsia 7 Mancina Emma Adria Nuoto e corsia 8 Martinolli Elena Centro Sportivo Of. Centro Sportivo Of.